ciao sono michela colombero di chetogenica in fantasia ed oggi ti propongo i miei involtini di pollo che naturalmente si possono fare anche con altri tipi di carne per questa ricetta ho utilizzato 370 grammi di fette di pollo 2 uova 50 grammi di olive verdi tritate 15 grammi di lievito in scaglia e disidratato che uso come insaporitore ma nell'alternativa si può mettere anche formaggio grana una presa di sale e due prese di origano il procedimento è molto semplice sbattere le uova aggiungere poco sale perché le olive sono già molto salate origano le olive tritate appunto e l'insaporitore stendere questa cremina così ottenuta sulle fette di pollo arrotolarle e fermarle con stuzzicadenti infornare quindi per 20 minuti a 200 gradi circa naturalmente spero che facciate questa ricetta e che mi mandiate vostro feedback vi auguro buona giornata